Oggi sono iniziati i lavori nella curva dell'Americo Liguri. Direi in tempi quasi da record, perché da qualche mese abbiamo iniziato l'iter per la sistemazione della curva a Liguri, cioè la rimozione dei vedi con la posizione di grade in ferro, un materiale particolare proprio adeguato per gli Stati, e finalmente stamattina hanno avuto inizio i lavori fortemente voluti sia dal sindaco sia dal consigliere Brancacce e portati avanti dal sottoscritto unitamente all'ufficio diretto dall'architetto D'Angelo e la sua truppa. Una veste nuova per i Liguri, un appello ai tifosi. Ma direi che finalmente i tifosi possono far sentire ancora di più la loro voce ed è importante per una squadra avere la tifoseria che incita. Con i vetri credo che il loro grido era abbastanza limitato, ma al di là della voce penso che era anche abbastanza sofferente nei momenti di giornate caldissime come di questi tempi poter fare il tifo a Liguri dietro a quelle vetrate. Finalmente possiamo dire che abbiamo dato più voce ai tifosi.